Il volo leggero del gruccione, un uccello migratore noto per i suoi colori vivaci e il canto melodioso meraviglia gli occhi di chi lo incrocia. Da anni ha scelto questo luogo per riprodursi, scavando il nido nelle pareti della falesia, tanto da spingere alcuni cittadini a prendersi cura di loro impegnandosi a fondo, fino a convincere una precedente amministrazione comunale di Trani a dedicare il nome della Baia proprio a questo splendido esemplare, tanto raro da finire nell'elenco degli animali meritevoli di tutela. E proprio qui sorgono i problemi. Questo luogo di rara bellezza e importanza ecologica è tanto affascinante quanto vulnerabile. Le alte scogliere modellate dal costante lavoro dell'erosione marina offrono uno spettacolo mozzafiato di stratificazioni geologiche e colori cangianti, ma al contempo denunciano una fragilità che non può essere ignorata. Solo che l'intervento umano progettato dal Comune riesca di essere deleterio e peggiorare la situazione. Abbiamo affrontato in Consiglio Comunale, ne ho fatto oggetto di un'interrogazione scritta, la concluità dei lavori lungo il tratto di costa che va da Lido Mongeli alla seconda spiaggia, perché su questo tratto c'è la Baia del Gruccione, che è una delle 98 specie tutelate dalla comunità europea ed è tutelata quindi da due leggi italiane, la 157 del 92 e la 394 del 91. Quello che abbiamo chiesto in questa interrogazione è se il Comune, l'amministrazione, hanno comunicato al progettista e di conseguenza il progettista poi ha comunicato agli enti competenti per le autorizzazioni se la presenza della Baia del Gruccione, di questo sito di dignificazione, sono stati appunto comunicati agli enti preposti per verificare se tutte le autorizzazioni che sono state date in precedenza, questo è un progetto che parte dal 2009, quindi vogliamo capire se tutti gli enti che hanno lasciato le autorizzazioni sono a conoscenza di questo sito. L'intrusione umana insomma potrebbe accelerare il degrado della falesia causando la distruzione dei siti di nidificazione del Gruccione. In qualità di promotori della Baia del Gruccione abbiamo in programma di andare nelle scuole, negli oratori di Trani per raccontare la storia della Baia del Gruccione e di questi variopinti migratori che arrivano dal Nord Africa per nidificare nella falesia e ripartire ad agosto. Ma soprattutto di regalare ai bambini un segnalibro righello con le immagini del luogo e dei gruccioni al fine di sensibilizzare proprio loro all'amore e il rispetto per la natura, gli animali, l'ambiente che ci circonda che hanno sempre più bisogno di essere tutelati e valorizzati.